Tanti auguri a Solange! Grazie! Auguri! Grazie! Devo dire che sono emozionato perché festeggiare il compleanno di Solange ormai è un must-on! È uno dei più grandi eventi che il Gilda regala al popolo della nostra! È una serata simpatica e positiva! È vero, è vero! E quindi evviva il Gilda! Evviva Ciccio! Che rimane ancora il numero uno delle notti romane! Allora auguri a tutti i telespettatori di Voci della Notte! Eccoli! Voci della Notte! Mi raccomando non mi sbagliate canale! 16 per tutto il Lazio! Canale! E' un'altra cosa! Un'altra cosa! Un'altra cosa! Grazie a tutti.